we bellissimi allora raga a parte gli scherzi sta facendo un contest per vincere una skin glow una skin gratuita e se proprio nel caso non la doveste vincere vi lascio comunque uno sconto dove la potreste prendere al 10 per cento ora vi spiego tutto come si partecipa allora basta che andiate nella descrizione nel primo commento vi lascio il link del gruppo telegram nel quale dovete iscrivervi proprio entrate e adesso siamo 150 membri precisi al raggiungimento dei 300 membri estrarò appunto il vincitore della skin glow gratuita ok e quindi ragazzi mi raccomando entrate non fate furbi perché io me ne accorgo ok ragazzi una volta fatto questo passaggio non basta perché vedete iscrivere al mio canale lasciare like al video e condividere con minimo tre amici con più amici condividete questo video e più avrete la possibilità di vincere la skin come ultimo passaggio vi lascio sempre in descrizione nel primo commento il canale di weapons a raggiungimento dei 100 iscritti estrarò il vincitore della glow quindi ragazzi dobbiamo arrivare a 300 membri su il gruppo telegram a 100 iscritti da weapons per ora siamo 25 vi lascio sempre il link in descrizione come ho già detto e niente ragazzi se volete vincere appunto condividete con i vostri amici più amici vengono da voi mi dite che ne so tipo voi tutti chiami tu tu che stai vedendo questo video ti chiami antonio antonio tu condividi il video con cinque amici cinque amici vengono fanno vengo ad antonio e così io mi salvo questo nome antonio come volete come come vi chiamate voi come preferite e così magari avrà maggiori possibilità di essere estratto va bene raga quindi per questo tutto ovviamente seguite tutti i passaggi scrivete nei commenti hashtag partecipo così magari vedo anche chi entra su sul gruppo telegram e più o meno mi segno tutti i nomi ok raga quindi 300 membri sul gruppo telegram 100 iscritti al canale di weapons e condividete il video con il minimo tre amici va bene raga questo contest quindi non c'è una data ben precisa ma solo il raggiungimento dei follower quindi bella raga capito fate tutti i passaggi non fate gli stupidi barboni bella raga abbiamo bella bella broda giù 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 lo dè